Questa fretta, insomma, abbiamo tanti premi da consegnare, quindi proseguiamo con la sezione B4, Juniores, ragazzi o ragazze dai 15 ai 18 anni, sempre il tema libero e vince la poesia Trovati qualcuno così, scritta da Alessia D'Apoto con la seguente motivazione. Alessia Bellis, se non sbaglio, l'abbiamo già conosciuta prima. Motivazione. Poesia di sentimenti e stati d'animo di ampio respiro. Il verso sciolto utilizza il linguaggio colloquiale diretto che si appella a un firmamento di emozioni, desideri della ricerca dell'amore autentico, assoluto, racchiuso del mistero dei sentimenti umani. Bene, consegna il premio Vincenzo Giuliano, garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Ritimia il premio proprio Patrice, Alessia D'Apoto, ma prima, prima, ci fai sentire la poesia. Vincenzo, scusami, tu già sei pronto. Ormai siamo entrati nel ritmo, quindi... Trovati qualcuno di forte, di tanto forte, ma che quando è con te si finge la motura di miele. Trovati qualcuno che per te appenderebbe il suo egoismo alla luna e lo lascerebbe andare rio, porrebbe la sua presunzione sulle nuvole e le guarderebbe allontanarsi, sputerebbe il retrogusto della sopripotenza infantile sulle stelle cadenti. Trovati qualcuno per cui saresti in cielo, notturno, in tessuto di diamanti, prati, ridati, fiori sugli alberi, gli oceani, il deserto. Trovati qualcuno per cui nient'altro sarebbe degno di sguardo. Trovati qualcuno che ti coprirà per i petali, di parole, di sorrisi, di fiori, di pace, di velli, di carenze, di sguardo e dolci, di versi, di poesie. Qualcuno per cui saresti il fiore, da proteggere dal gelo. Trovati qualcuno così, con il sito di tuo padre. Consiglio in preghio, insieme a Vincenzo Giuliano, Mila e Vizia, di Libera Passiglietta. Grazie Mila. Se vuoi anche tu recarti in postazione foto ufficiale, così... Tanto, sbettate. Immortaliamo il momento.